Fiorentino di Alex Stovi and the Bear A Mackenzie, l'ultra più bella dell'America, con un fratello sangue freddinese Qual è il tuo nome? Mackenzie, domenica 22 maggio 2005, stava una vecchia freddina in braccia alla nonna Franca, la moglie di Ripa Io ci sono rimasto perché non sono belli E a me, quando ci sono andato in Cina, abbassato la giocca a come si volesse a nascondere E allora, rompo gli ghiacci, pensate un po' Volevo rompere gli ghiacci dell'ultra americana Qui a me sono sfruttato che la zica, ma la propria zica d'inglese che sa ci E ci sono detto Qual è il tuo nome? Ma, siccome l'ultra cercava di nascondere di più, la nonna mi rispondeva E mi dice Mackenzie, ancora non parla Ma, a dodici mesi O, io invece non credo che a Mackenzie Non era capito l'anglese meglio Ma, a parte gli scherzi, è proprio da una bella ultra E ci voglio fare i complimenti alla mamma Lisa e al padre Braddo Che ho fatto proprio una bella ultra E che dopo di pure sangue ciocciare Ma forse è meglio di dire frantino Ma ci pensate che quella ultra è venuta a frantino dall'America All'altro paese andò a unire gli nonni materni Questo è stato un evento importante per gli paesi Questa cosa non riesce a passare così Se hai da fare che cosa per ricordarcela Tutti quanti Sia da là che da qua E se, chissà quando sarà giù una volta Si ricordarà che è venuta agli paesi degli nonni Ci ricordarà che avrà una volta a frantino O se li proprio ricordarà E questa visita la faccia via passare la storia Pensateci un po' Terentino, 22 maggio 2005